Siamo qui per presentare un progetto innovativo, è il primo in Italia, per presentare l'idea di franchise di reti di onoranze funebri. Il nostro punto di forza era l'immagine innovativa di un'impresa di onoranze funebri come da sempre non ci sono state sul mercato e quindi diamo una nuova immagine, nuova, giovane, dinamica e con tantissimi servizi aggiunti. Il nostro affiliato ideale è una persona giovane con una gran voglia di fare e di vendere se stessi in un settore particolarmente difficile ma in un settore dove la gente deve avere credibilità in chi ha di fronte perché è in un momento difficile della sua vita e quindi deve affidare un'onoranza a una persona di sicura fiducia. Grazie a tutti.